ok raga questa è la colazione, oggi un po' di meno comincio col succo d'arancia che qua è buonissimo raga è buon fresco questi raga, io non so cosa fanno ma guardate, è buonissimo buongiorno buona colazione raga raga ora stiamo andando a Oxford Street anche sul cappello, com'è la metro? ti piace prendere la metro? è tutto collegato bene è tutto collegato bene e magari a Roma è tutto collegato bene wow bellissimo raga guardate quanti zainetti questo di Casper, guarda questo raga guardate in Italia ste cose non ci stanno che bella questa via raga ok raga siamo sull'auto adesso, stiamo andando da Harrod eccolo qui raga che bello raga guardate che bello tutto di Natale guardate quante cose belle King andiamo ti porto a mangiare da una parte, vediamo un po' se hai capito dove stiamo andando che sono due giorni che dici voglio andare a mangiare lì, voglio andare a mangiare lì vuoi assaggiare anche qui il sono due giorni e me lo dici si, eccolo lì davanti vediamo la cosa bella qui che vi dicono le calorie di tutto raga è fighissima questa cosa allora raga ecco qua abbiamo preso due panini per assaggiare allora lui si è preso mi sa quello che c'era questo qui raga sono uno dei pezzettini non capivo che era formaggio ma non so se era piastrato o fritto raga era sì e no buono, strano ovviamente però sì, buono avete visto che figata raga le calorie dappertutto ah questi sono dei polletti io convintissimi andavo a mozzicare raga pizzicavano da morire da morire non si potessero mangiare la lingua faceva male io ho bevuto la Sprite e qui abbiamo preso questo chicken vabbè l'avevo già mozzicato metà per uno questo qui e poi abbiamo preso un altro panino metà per uno raga stiamo da Starbucks ho preso questo, quanto è buono penso che sia questa la mia cena buono raga ora siamo a letto perdonatemi se i miei vlog durano poco però beh io li metto tutti i giorni se metterei tipo un vlog una volta a settimana ovviamente ogni 3-4 giorni durerebbero tipo mezz'ora però beh io li metto tutti i giorni poi questa è la prima vacanza del King e sto cercando di godermela e quindi niente ora siamo in un albergo la mia cena è stato quel tortino di Starbucks si raga perché comunque mangio perché mangio male però ecco cerco comunque di contenermi perché veramente ho paura di tornare a pesare 200 kg comunque raga niente questa è la mia giornata ci vedete Oxford Street a Arroz raga ci siamo persi dentro Arroz non sapevamo più dove metterci le mani dove andare raga e è bellissimo c'è tutta roba di marca tipo Fendi Gucci queste cose qua è grandissimo non so quanti piani sono siamo usciti a un certo punto perché c'eravamo persi raga e poi niente però beh ieri abbiamo visto Londo Street ecco oggi Arroz Oxford Street però molto bella Londra veramente molto bella e ora vediamo un film comunque mi è piaciuta e niente raga ora siamo all'albergo e comunque ieri quel cibo a Chinatown raga era proprio buono ma anche la prima quando siamo nel primo giorno a mangiare il riso raga dobbiamo tornarci perché è proprio buono c'erano tutte cosette strane e niente raga questa qua quindi scusatevi ma i vlog durano poco perché io comunque metto tutti i giorni i vlog non faccio un vlog ogni 2-3 giorni ecco ciao raga